Oggi andiamo a utilizzare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali Potrebbe sembrare complesso ma a dire il vero è molto economico perché lo trovate in vendita al prezzo di qualche euro Vi permette di realizzare dei progetti strepitosi perché potete per esempio fare una serratura intelligente che riconosce l'impronta digitale solo di alcune persone, quindi magari solo la vostra Oggi vedremo come registrare le impronte e leggerle al volo con gli esempi della libreria Iniziamo subito Vediamo oggi come utilizzare un lettore di impronte digitali con Arduino Sembra una cosa complicata a dire il vero, è un dispositivo molto semplice perché funziona con una linea seriale Esistono vari modelli, meno male quello più diffuso è questo qua che vedete col cavetto rosso E nella parte posteriore dove si infila il cavetto sono anche segnate le connessioni Andiamo a vedere come collegare il sensore ad Arduino, lo rappresento come un semplice rettangolo Nella parte inferiore troviamo sei pin, due non li utilizzeremo Il primo lo trovate marcato come GND quindi lo collegheremo al ground di Arduino Il quarto viene collegato all'alimentazione, fate attenzione perché va collegato ai 3,3V di Arduino Abbiamo poi le due linee seriali che andiamo a portare sulla nostra scheda Scegliete l'Arduino che preferite che tanto la comunicazione avrà usando due pin seriali quindi con una software serial Dovremmo avere l'RX che è il primo quindi il pin numero 2 lo portiamo sul nostro Arduino E poi in giallo faccio il TX che collego da questa parte Ho guardato in giro non danno particolari accorgimenti per il collegamento Quindi non è necessario mettere un partitore Quindi probabilmente internamente ha già la circuiteria necessaria per evitare che si danneggi Colleghiamo nel pin 3 e 2 su cui poi installeremo la software seriali per la comunicazione Che avviene a 57.600 BOD Per l'utilizzo servono delle librerie Andiamo a cercare librerie su Sketch, Include Library Manage Library, Cerchiamo Finger, vedete che esistono vari Noi usiamo l'Adafruit Fingerprint Sensor Library La installiamo, qui da me è già installata E ora andiamo a fare l'operazione, la prima operazione Quella di registrazione delle impronte e poi riconoscimento Possiamo farlo senza scrivere il codice perché useremo gli esempi forniti con la libreria Vedremo in un prossimo video come andare a scrivere un semplice programma con del codice personalizzato Quindi nella parte file, esempi, scendiamo Andiamo a cercare Adafruit Fingerprint Qui ci servono due sketch Enroll che serve per registrare le impronte E poi il secondo, file, esempio, fingerprint che serve per riconoscerle Lo sketch è già pronto, lo potete caricare E vi serve per andare a registrare inizialmente le dita, quindi le impronte, sul vostro sensore Se vi serve ovviamente potete trarre il codice per un vostro sistema più complicato Che fa la registrazione da questo sketch Vedete qua la seriale viene collegata ai pin 2 e 3 Viene inizializzata a 57600 Inizialmente si collega, qui siamo nel setup E stampa tutta una serie di informazioni Tra cui quante impronte riesce a registrare Dovrebbe essere più di 128 Forse sono 150 E alcune informazioni di servizio Diciamo, tutte le cose che non ci servono La cosa più utile è questa qua Fingerprint Verify Password Che permette di capire se il sensore è collegato e viene riconosciuto Quindi se funziona Una volta che l'avete collegato potete poi utilizzarlo In questo caso nel loop abbiamo la procedura per andare a registrare Viene chiamato enroll l'impronta Vi chiede inizialmente di inserire un ID Il numero dell'impronta Quindi potete scegliere come se fossero i canali della tv Potete mettere l'impronta Per esempio la mia impronta l'ho messa prima sul 1 Poi il secondo dito l'ho messo sul 2 Il terzo sul 3 E a seconda dell'ID che poi associate viene ripescato fuori La procedura richiede prima l'acquisizione di un'immagine Lo vediamo qua VFingerGetImage Questo ritorna un codice errore che viene utilizzato per capire se è stata appresa oppure no Quindi riesce a capire se c'è l'immagine, se non è stato appoggiato il dito O se l'immagine per esempio non va bene Se viene acquisita l'immagine Ha un primo passaggio in cui viene convertita con questo metodo ImageTutiz Se l'acquisizione va a buon fine viene creato un modello sempre con un altro metodo Che poi viene associato con l'ID fornito Qui vedete il sensore acceso Si illumina e appoggiate sopra il dito Bisogna avere un po' di pazienza anche nella fase di riconoscimento Perché non sempre lo riconosce immediatamente Ci vuole un po' di tempo a fare qualche tentativo Qua vedete lo sketch che parte Riconosce il sensore Attende l'ID Qua gli metto 3 Do invio E ora devo appoggiare il dito Quindi è in attesa del mio dito L'ha riconosciuto Ho preso l'immagine e l'ha convertita E qui attende ora che io appoggio di nuovo il dito per far la verifica A questo punto ho registrato l'infronta del mio indice sotto l'ID 3 Ora andiamo a verificarla Vado a prendere l'altro sketch Che è quello che abbiamo visto prima Il fingerprint Quindi prendo il fingerprint e lo carico sul mio arduino Questo dovrebbe riconoscere l'impronta e stamparmi l'ID Apriamo il serial monitor Attende il dito Non appena lo appoggio Qui bisogna fare qualche tentativo come vi dicevo prima Ecco è stato riconosciuto Avete visto scorre veloce Ha trovato l'ID 3 Ecco qua Found ID 3 con confidenza di 145 Il video di oggi termina qui Era solo un'introduzione a questo sensore E agli sketch base per utilizzarlo Vedremo la prossima volta come realizzare un semplice progettino Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani Ciao